Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a Milan Parma, benvenuti sul canale di Milan Inside, come ogni partita siamo in live su Twitch, link che trovate qua in descrizione per venire a vedere la partita insieme a noi e a reactarla, diciamo, insieme. Le formazioni, formazioni del Parma, Sepe, Conti, Bani, Gagliolo, Pezzella, Kuczka, Hernani, Kurtic, Mann, Pellè, Gervigno. Formazione dei ragazzi, formazione del Milan, Donnarumma, Tio Hernandez, Tomori, Kier, Kalulu, Benna Serkesi, Rebic, Cialanoglu, Salemakers, Ibraimovic. Allora, c'è da dire che comunque abbiamo una formazione ottima, perché nel senso, a parte Calabria, ok, però gli altri sono tutti i titolari, quindi siamo tornati tra virgolette al completo. All'appello mancano, vabbè, Romagnoli, però comunque Romagnoli non avrebbe giocato, perché comunque si è scoperta migliore la coppia Tomori-Kier. Mandzukic, Mandzukic è stato convocato, vediamo, vediamo cosa farà Mandzukic se si degnerà di contribuire per questo cammino verso l'Europa. E poi, appunto, come detto, Calabria, purtroppo, che ha ricevuto un mini-intervento, che teoricamente ho letto, tra l'altro, che dovrebbe forse rientrare settimana prossima in gruppo. E si inizia! Buon Parma-Milano a tutti, ragazzi! Palla per Kier. Kier, palla per Kalulu. Kalulu, palla per Sale, Sale per Ciala. Allora, c'è da dire che rispetto contro, rispetto a settimana scorsa, aspettate, bella palla di Rebe, sì, di Benasseri, Ibra, Ibra fuori aria, palla per Rebic, Rebic! Ante! Rebic! Minchia! Minchia che azione! Minchia che azione! Ragazzi! 1-0! Mamma che azione! Benasseri a centrocampo, la gira per Ibra, Ibra finta di tiro, rientra, la gioca a Rebic, Rebic con la solita mossa, una sorta di Veronica che ha fatto, che ha fatto anche contro la Roma, ha mandato al bar la difesa, si gira e palla sotto l'incrocio! Milenio in avanti, ultime occasioni, Ibra, Ibra, palla perché sì, che si ha tutto lo spazio, che si, un po' timido, che si, si complica la vita, niente da fare. Palla recuperata, però c'è Benasseri, Benasseri, palla, cambio di gioco, palla per Salemakers, che in questo primo tempo, attenzione, Salemakersi per Cialanoglu, che in questo primo tempo Salemakersi, ecco, forse è stato uno dei pochi che ha spiccato, se devo dire la verità. Attenzione, Teo Hernandez, palla dentro, che si, puntata! Il presidente! Che si! Al quarantatresimo, super combinazione, super combinazione dei ragazzi, bellissima azione, Teo Hernandez, palla per Ibra, uno, due, palla che torna Teo, la dà dentro, a che si, che con una puntata la spedisce sul primo palo. VAMOS! Bellissima azione, bellissima combinazione, due a zero Milan al quarantatresimo, ottimo chiudere il primo tempo così. Fine primo tempo di Parma-Milan, finisce 0-2, super, super, super primo tempo, l'abbiamo giocato veramente bene. C'è stato il momento di gestire la palla, e l'abbiamo gestita bene, c'è stato il momento di attaccare, e l'abbiamo fatto bene. Partita, per il momento, bellissima, e anche per il fatto che vi stavo dicendo che finalmente non abbiamo preso sotto gamba, cioè finalmente, non è che l'abbiamo mai fatto, né? Però comunque non abbiamo preso sotto gamba il Parma, comunque squadra penultima in classifica, non siamo arrivati qua con il fare da spacconi, ma abbiamo subito avuto la mentalità giusta. Scesi in campo bene, cattivi, con la convinzione di far bene e col gioco che sappiamo fare noi, e questi sono i risultati. E ricomincio al secondo tempo di Parma-Milan, per il momento mi sa che è entrato solo Cornelius nel Parma, sì, è entrato solo Cornelius. Per il Milan invece gli stessi undici. Oh, recuperiamo un bel pallone, attenzione, Ibra, Ibra in profondità, Ibra, la gioca Rebic, Rebic in aria, Rebic di prima sul secondo palo, no, pensavo andasse sul secondo palo, invece era un cross arretrato per Ben Nasser. Attenzione, Mann, non Rebic far fallo lì, ok, occhio qua in fascia, palla per Conti, vedi se crossa Conti, crossa, palla dentro, aia, Calulius si fa anticipare, Cornelius parla che resta lì, Conti! Donnarumma para, Gigio, miracolo, corteciracrui, mamma mia Cucca, irrovesciata, palla alta, doppio intervento pazzesco di Gigio, doppio intervento pazzesco di Gigio. Palla dentro, sponda di Cucca sul secondo palo, arriva Conti, a botta sicuro di testa, Gigio prima super parata, Dopodiché arriva Pelé a calciare a botta sicura, Donnarumma, mega uscita su Pelé, poi Cucca prova una rovesciata che termina poco alta sopra la traversa. Qua, prima occasione vera per il Parma, doppia occasione vera per il Parma. I nostri nomi erano per fare un esempio, Mirko, ora come ora non puoi, non puoi fondamentalmente paragonare un giocatore dell'epoca venduto al giorno d'oggi. Cartellino rosso? Rosso per il Milan? Rosso a Ibra? Oh, come rosso a Ibra? Ma cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Ragazzi, era punizione per noi, ma come rosso a Ibra? Ma come cartellino rosso a Ibra? Ma rosso diretto, ragazzi! Ma cosa ha fatto? Dai, ragazzi, ma cosa ha fatto? Ma cos'è successo? Ma poi, anche se avesse detto qualcosa, perché avrebbe dovuto dire qualcosa? Raga, io stavo guardando la chat, mi giro, vedo che... Attenzione, parla dentro, sul secondo palo lo rimette dentro! 2-1 Parma! 2-1 Parma! Eh, son cazzi! 2-1 Parma! Gagliolo! Gagliolo la riapre! Fuori aria! Cross dentro! Pellè di testa a sponda! E Gagliolo era lì da solo, l'ha messa dentro! Mica! Oh, le ha... Hai bevuto la Red Bull prima della partita! Dovresti correre come una scheggia! Discusso! Indiscusso, Maresca! Due minuti e mezzo, siamo a metà di questo recupero! Cross dentro per il Parma Cornelius, anticipa Teo! Palla ancora lì però! Mann! Stavo per dire Mané! Sì, volevo dire Parma-Mané! E insomma... Solleva la Champions, Dani Maldini! Mi dissocio! Palla dentro! Colpo di testa! Oh, madonna! Palla sul fondo! Madonna! Non sembrava pericoloso poi appena ho visto la traiettoria, mi sono... Ma che cazzo ti ridi, donna Rumma? Ma che cazzo ti ridi? Che mi sto cagando addosso! Dalot recupera palla! Bravo Dalot! Guarda Leao! Guarda Leao! Guarda Leao! Ti prego! Guarda Leao! Guarda Leao! Dalot! Palla per Leao! Leao contro Sepe! Leao! Leao! Rafa! Rafa! Leao! E la chiude qua! E la chiude qua! Rafa Leao! Rafa! Moderatori pensateci voi! Rafa! E la chiude qua! E finisce qua! E finisce qua! Una vittoria che sembrava facile a fine primo tempo! Una partita che ormai davi per scontato! E invece poi il secondo tempo è arrivata la bella espulsione di Zibra! E grazie a Dio Leao ha tolto ogni sofferenza dalla nostra anima milanista! Bene così ragazzi! Bene così!